money money o money makes the world go round Liza Minelli questa è la prima scelta musicale della nostra ospite Giovanna Badalassi che è al telefono buongiorno Giovanna benvenuta buongiorno ciao allora Giovanna è una delle autrici insieme a Federica Gentile di questo libro che si intitola signora economia e che adesso racconteremo in maniera un po più specifica però prima partiamo da money money perché in realtà ci sono un sacco di brani che parlano di soldi me ne sarete accorte dovendole scegliere probabilmente come mai proprio questa ovviamente volevamo aprire con come dire una canzone che fosse che avesse al centro del proprio significato proprio questo ragionamento del ruolo che hanno i soldi nella nostra vita e questo a parte che ci piace tantissimo Liza Minelli però è proprio nel testo della canzone cita sempre no è un mondo per uomini ricchi no se avessi i soldi degli uomini ricchi starai meglio eccetera 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 quindi diciamo era un punto di partenza no di dello stato della situazione economica che c'è tuttora nel mondo ma anche in Italia e Giovanna Padalassi e Federica Gentile sono le creatrici di Ladynomics non so se vi siete mai imbattuti nel loro sito imbattuti e imbattute nel loro sito è un sito dove si parla di una serie di argomenti compresa l'economia da una prospettiva femminista in particolare questo libro che appunto è stato pubblicato dalle plurali che ringraziamo sempre per il loro lavoro di ricerca e di impegno nel pubblicare cose che abbiano un senso e che siano utili insomma non solo per per la carta così che va perché purtroppo chi si occupa di libri sa bene che ci sono molte più cose scritte che cose lette in questo caso sono cose che vale la pena di leggere e questa signora economia guida femminista al capitale delle donne finalmente affronta questo tema che sembra veramente una roba che non si può dire cioè l'apparto fra le donne e i soldi come se fossero due cose completamente diverse e che non devono essere associate voi partite da un'interessante differenza che è quella tra matrimonio e patrimonio me la spieghi e mi mi dici anche perché siete partite da lì allora quella è proprio come dire all'origine della differenza nelle nostre vite ma anche in quello che è lo schema economico nel quale noi oggi ci muoviamo noi ereditiamo ancora oggi una forte divaricazione di mondi di esperienze di vita di percorsi che nasce proprio dal momento in cui siamo nati dal momento in cui ci viene impartita un'educazione di genere quindi noi entro i tre anni e questi sono i testi di pedagogia a partire dalla belotti che ce lo insegnano entro i tre anni se noi siamo nati di sesso maschile o femminile noi sappiamo benissimo quello che i nostri genitori gli amici parenti conoscenti si aspettano da noi rispetto ai comportamenti quindi c'è come dire un una partenza proprio stereotipata con questa forma di pressione anche educativa no e questo è il concetto proprio di genere dal punto di vista economico questa come dire questa dedicazione dei comportamenti attesi si traduce in una visione diversa in un uso diverso in un ruolo diverso dei soldi quelli degli uomini sono quelli del patrimonio quindi il compito del padre che quindi si esprime all'esterno della famiglia nella ricerca del profitto nella ricerca no della competitività della dell'autore dell'autorità del comando no del comando quello proprio verticale la strategia gli eserciti tutto quello che sappiamo e invece specularmente l'economia delle donne ha a che fare col matrimonio quindi il compito della madre e quindi i soldi non sono più un fine come nel matrimonio nel patrimonio ma sono un mezzo quindi all'interno della famiglia all'interno del matrimonio i soldi vengono usati per produrre benessere benessere per le persone quindi è proprio un mondo completamente diverso nel quale l'obiettivo quindi è quello di usare i soldi per garantire il benessere soprattutto dei più fragili dei bambini degli anziani delle persone con disabilità sappiamo all'interno delle nostre famiglie no quando abbiamo un fragile come diventa il catalizzatore no di tutte le attenzioni eccetera quindi sono proprio due mondi speculari che ovviamente negli ultimi secoli in qualche modo si sono un po come dire no resi meno rigidi come segregazione come separazione ma che ancora oggi spiegano le disparità spiegano perché non c'è ancora la parità oggi certo e questo libro sappiate è un libro molto denso quindi io non sarò in grado di affrontare tutte le cose anche perché poi il libro dovete leggere quindi pescherò alcune delle cose che mi hanno colpita di più nella nella lettura per esempio voi spiegate la nascita del pil e perché perché anche la stessa nascita di questo sistema che poi è un sistema che sembra una cosa innocua insomma per cercare un po di dare una come dire una una schematizzazione una misura ecco al guadagno dei singoli paesi anche questo in realtà nasce da una base anzi è stato forse trasportato non nasceva magari da una base più femminista più un di cura universale è diventato qualcos'altro me la racconti l'economia moderna diciamo parte da adamo smith nel 1676 con la ricchezza delle nazioni e già lì c'è stato come dire un primo inciampo della storia nel riconoscere il ruolo delle donne nell'economia perché come dice il libro di katrine marsal adamo smith ha sempre considerato che l'economia si muovesse solo per la convenienza economica personale quindi una forma di egoismo no individuale voglio guadagnare e quindi no lavoro eccetera in realtà adamo smith era uno scapolo che ha vissuto tutta la sua vita con la madre che gli serviva la cena a tavola e sua madre non era mossa da 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 come dire da da criteri di convenienza bensì no era mossa da criteri di accudimento di amore materno eccetera eccetera questo vulnus iniziale che ha escluso completamente il valore economico del lavoro di cura delle donne che in realtà sostiene il nostro sistema produttivo perché le donne su quelle che fanno vista dal punto di vista economico creano forza lavoro l'allevano la crescono la nutrono la educano e poi questa forza lavoro entra nel sistema produttivo quindi c'è un ruolo molto forte messo in maniera molto cinica e staccato da tutta la dimensione umana che conosciamo però dal punto di vista economico il lavoro di cura delle donne ha un valore fondamentale philis din è stata la seconda occasione che abbiamo perso per inserire nell'economia il valore del lavoro di cura che ad oggi ancora gratuito e nascosto nel mondo economico ma un suo peso philis din era una giovane ricercatrice che era stata incaricata dai due padri che hanno creato tutti i calcoli per arrivare al pil che erano james mead e richard stone che sono diventati poi dei premi nobel philis din era una giovane ricercatrice che è stata mandata da questi due grandi baroni economisti in rodesia a verificare se i calcoli di questo pil potessero essere applicati in ogni contesto economico in ogni tipo di economia e cultura perché il pil doveva essere l'indice no si riferimento per misurare l'economia moderna il ruolo dello stato nelle economie a livello globale questo anche per favorire la la crescita la ripresa dopo il secondo conflitto mondiale philis andò in africa e ritornò dicendo guardate che noi dobbiamo considerare nel pil anche il lavoro che fanno le donne nei villaggi perché loro fanno delle attività che secondo me sono economiche preparano portano la legna prendono l'acqua fanno tutta una serie di attività di accudimento che in questi villaggi ovviamente l'economia è poverissima c'è poco scambio di moneta ma producono comunque economia producono la regola della casa no che economia letteralmente le regole della casa è tornata con questa bella novità ma non sarà solo minimamente no considerata e quindi è stata la seconda occasione persa fino ad arrivare a 68 quando robert kennedy pronunciò famoso discorso il pil misura tutto tranne quello per cui vale la pena vivere quindi questo è stato un esempio che abbiamo usato nel libro giusto per spiegare come le donne hanno un ruolo nell'economia nascosto che vale e che contribuisce al funzionamento di tutto lo sistema ed è quale noi per prime spesso non ne siamo consapevoli quindi abbiamo cercato con questo libro di trovare un riequilibrio da questa parte nascosta quindi misurando no quanto vale a livello generale e italiano ma anche quanto vale invece la parte di economia emersa delle donne no quindi tutto in una visione complessiva per quello che tu dicevi che è così denso perché abbiamo cercato di dare un quadro veramente complessivo che non perdesse dei pezzi per strada di capitale delle donne certo perché oltre appunto al discorso che abbiamo fatto di quella che è l'economia cioè il valore economico non misurato del lavoro di cura c'è ovviamente tutto il discorso del mondo lavorativo e delle differenze diciamo tra uomini e donne a partire dal discorso molto conosciuto ma poi poco praticato del gender pay gap quindi della differenza diciamo di retribuzione ma non solo anche del diverso modo di approcciarsi al lavoro proprio al concetto di lavoro ma anche a tutto ciò che invece fa parte ancora dello stereotipo quindi per esempio la maternità lo stereotipo che poi diventa molto molto pratico quindi di tutte le ricadute diciamo pratiche del del fatto che una donna possibilmente potrebbe diventare madre quindi già solo questa possibilità fa da ostacolo no a tutta una serie di cose e devo dire che mentre stavo leggendo questo libro ieri non so se ti è capitato di vederla se sei iscritta è arrivata la newsletter di giulia blasi e in questa newsletter lei parla effettivamente fa una bella disamina sulle femministe di destra cioè nel senso sul concetto di femminismo a destra e io sono arrivata poi a leggere la parte diciamo finale del vostro libro che parla anche di politica e di donne in politica e di come diciamo il concetto economico può essere applicato e si applica a una visione più a lungo termine no della politica e devo dire che ho fatto il match nel senso che mi sono ho riflettuto molto su questa cosa e come diciamo come mai avete inserito diciamo una parte più legata alla politica io me lo spiego però vorrei che me lo dicessi tu ecco in maniera un po' più approfondita certo perché partendo proprio dal capitale delle donne in economia quindi valutando il ruolo delle donne in economia in tutte le loro forme quindi non solo come lavoratrici come di solito siamo più abituate a pensare ma anche come consumatrici risparmiatrici contribuenti investitrici ci siamo ovviamente rese conto ma come dire sono anni che siamo rese conto che l'economia femminista quindi una prospettiva di parità deve per forza realizzarsi attraverso uno stato che ha un forte ruolo all'interno dell'economia uno stato che è in grado di mediare tra le ragioni del matrimonio del patrimonio e di usare le risorse pubbliche di tutte e di tutti tutte le tasse che anche le donne pagano perché le donne pagano 56 miliardi di tasse ogni anno quindi riequilibrare in un'ottica di parità quello che è il punto di equilibrio tra i bisogni e le necessità del mondo produttivo e i bisogni e necessità del mondo riproduttivo che è quello che in maniera più divulgativa abbiamo chiamato matrimonio quindi lo stato diventa centrale per recuperare un percorso di parità quindi uno stato forte che è in grado di farsi carico di quel lavoro di cura che le donne svolgono gratuitamente ancora oggi nelle famiglie quindi passiamo attraverso il concetto di infrastrutture sociali e di welfare oggi questo equilibrio è un po' saltato e non è ancora come dire indirizzato in maniera consapevole verso la parità quindi in questo senso noi abbiamo sviluppato la parte della politica dicendo che se non c'è una maggiore consapevolezza del ruolo delle donne anche in politica non si può lavorare per raggiungere la parità anche nella dimensione economica perché lo strato diventa fondamentale per riequilibrare le differenze e gli stereotipi di sistema che ancora oggi ci sono in quest'ottica abbiamo fatto un passetto avanti parlando della differenza tra leadership femminile e leadership femminista perché la leadership femminile è essere campionesse del sistema attuale quindi come appunto nel discorso del leadership delle donne nel mondo diciamo di destra eccetera quindi vuol dire cogliere bene le regole del sistema attualmente esistenti e diventare campionese di quel sistema e questa è la logica della parità diciamo all'interno di uno schema dato la nostra riflessione è che questo va benissimo ci sono delle ottime esperienze carriere contributi eccetera ma nel momento storico in cui siamo oggi non basta più perché il sistema nel quale siamo tutti immersi ha delle crepe profonde ha delle sfide davanti enormi quella della crisi climatica quella dell'intelligenza artificiale delle disuguaglianze che si stanno divaricando delle tensioni geopolitiche e vediamo ogni giorno come sistema attuale si sta sgretolando non basta più quindi per noi la proposta e la visione di leadership femminista è una leadership che affronta la necessità di dover cambiare le regole in una direzione di benessere e di parità e tu poi voi fate riferimento a due due elementi diciamo perché voi dire questa cosa è molto bella ma non è solo una cosa che va fatta è una cosa di cui in realtà ci sono già gli strumenti per la quale ci sono già gli strumenti in qualche modo cioè è stata già un po pensata e secondo te come cioè che direzione bisognerebbe prendere ora non siamo nessuna delle due ha abbastanza potere per fare questa cosa al momento però insomma che direzione dovrebbe prendere per esempio la politica per effettuare da dare diciamo valore effettivo e ricaduta effettiva a questi valori ma noi abbiamo considerato che bisogna comunque ripartire da una partecipazione diffusa da parte delle donne in politica che non vuol dire candidarsi necessariamente ma vuol dire ritrovare una visione collettiva riuscire a valorizzare la crescita individuale che anche molte hanno fatto nelle carriere eccetera eccetera che però è una crescita individuale che non basta più in una prospettiva futura valorizzare questa crescita individuale all'interno di una visione collettiva quindi ritrovare no quella dimensione collettiva che passa attraverso la partecipazione che quindi può essere entrare nel terzo settore fare volontariato partecipare al dibattito pubblico anche solo iniziando a leggere i giornali le donne leggono pochissimi giornali per esempio leggono pochissimi giornali seguono poco la la politica seguono poco le trasmissioni quindi ricominciare proprio a confrontarsi sul futuro in questa dimensione collettiva perché è il punto di partenza fondamentale la politica poi recepisce il cambiamento che c'è nella società bene o male siamo tutti scrutinati da sondaggi e contro sondaggi per capire no l'orientamento dell'elettorato e per ricevere delle proposte politiche conseguenti quindi se non parte prima in maniera diffusa no questa questa nuova richiesta di politiche diverse è difficile che venga calata dall'alto certo un'altra cosa mi è venuta in mente quando hai parlato di giornali informazione credo che ci sia anche un grande vuoto di conoscenza di materia perché si pensa che il discorso economico sia sempre una cosa o troppo difficile o troppo complessa o troppo maschile come dicevamo all'inizio no in realtà è proprio una sorta di alfabetizzazione che magari manca manca a tutti ma manca soprattutto alle donne probabilmente sì noi lavoriamo da dieci anni sull'edinomics per cercare di diffondere questo tipo di consapevolezza c'è da dire che siamo come dire sul ciglio dell'innovazione sociale che quindi per definizione questi tipi di ambiti di conoscenza sono sempre come dire un po' nascosti e difficilmente diventano come dire di dominio pubblico finché non c'è una massa critica no su questo senso noi facciamo questa operazione di divulgazione di disseminazione al massimo è chiaro che anche a livello di ricerca si rimane sempre un po' come dire incastrate in quello che si è sempre studiato quindi se si parla di donne nell'economia si guarda soprattutto alla parte del lavoro che per carità è sacrosanta e c'è però bisogna guardarla tutta l'economia quindi guardare anche gli investimenti guardare anche i capitali perché le donne comunque ereditano capitale quindi c'è tutto un ragionamento su quanti soldi effettivamente le donne hanno a disposizione all'interno delle famiglie come li usano e come li spendono senza perdere di vista il fatto che siamo in un sistema di disuguaglianze anche tra donne è importante perché comunque in Italia il 5 per cento della popolazione gestisce in proprietà il 46 per cento della ricchezza delle famiglie quindi comunque siamo sempre in un quadro di grandi disuguaglianze ma è importante ricordarci che ci sono anche disuguaglianze tra donne certo a proposito dell'esperienza di Ladynomics proprio usando la vostra attività come linea temporale hai notato un miglioramento delle situazioni che si aggravano col tempo dei cambiamenti positivo e negativo? allora rispetto a quando abbiamo iniziato è successo di tutto è successo veramente di tutto perché noi abbiamo iniziato dieci anni fa quando eravamo come dire sulla scia della precedente crisi economica la bolla speculativa del 2010 che è partita dall'America arrivata in Italia che ci pareva già una crisi devastante ma non avevamo ancora visto tutto e quando abbiamo iniziato in quel periodo lì era un momento in cui sia io che Federica abbiamo lavorato molto nelle amministrazioni pubbliche sui bilanci di genere quindi la nostra formazione nasce da lì quindi Federica poi si è spostata in America più sui gender studies però diciamo abbiamo entrambe iniziato lavorando con le amministrazioni e con le università agli enti di ricerca proprio sui bilanci di genere e in quel momento c'era un momento di stanca proprio perché c'erano i famosi pati di stabilità tagli lineari era un momento come dire del si salvi chi può e quindi abbiamo fondato Ladynomics proprio per dire va bene noi adesso lavoriamo su delle altre tematiche però teniamo tutto questo patrimonio di conoscenza lo teniamo ben presente quindi eravamo nella nostra bolla di studiosi, di conoscenti, simpatizzanti eccetera e quindi per un po' di anni siamo andati avanti come dire in una nicchia di conoscenza eccetera e soprattutto eravamo seguite diciamo da un pubblico diciamo di donne che appunto avevano molto a cuore queste tematiche perché era parte della loro storia personale eccetera eccetera poi c'è stata la pandemia che è stato un momento di grandissimo sconvolgimento anche proprio di riposizionamento su capire cosa sta succedendo, il sistema, cos'è, cosa non è lì c'è stato un momento di grandissima attenzione anche da parte di tante donne che non si erano mai occupate di queste tematiche che magari erano cresciute nelle carriere delle imprese avevano sempre visto il femminismo come un processo di crescita personale non all'interno di un disegno collettivo e quindi ci siamo confrontate con parecchie donne proprio delle aziende bene o male come dire ora c'è la prima generazione di massa di donne dirigenti d'azienda negli anni 70 non esistevano tutte queste donne dirigenti d'azienda eccetera quindi c'è stato un momento di interesse collettivo da lì poi è partito tutto un flusso di social tutto il discorso delle Instagram, discorso delle convention tutto un discorso diciamo di sensibilizzazione della parità di genere nel mondo diciamo aziendale a livello pubblico c'è stata questa forte critica dell'impatto di genere del PNRR su quale si sono temporaneamente aggregate un po' di alleanze abbiamo fatto audizioni eccetera eccetera e poi questo è chiaramente il nostro osservatorio in questo momento abbiamo avuto poi questo grossissimo salto di qualità che abbiamo la prima presidente del Consiglio Donna la prima segretaria donna del PD che quindi è stato come dire se tu ci pensi cinque anni fa era una cosa inimmaginabile eravamo ancora a battagliare quante donne ci sono ministre eccetera e questo doppio colpo ha un po' come dire riposizionato la riflessione perché come dire più di così cosa vogliamo dal punto di vista proprio di rappresentazione delle donne nella politica eccetera in realtà questo risultato nasconde delle grandi disuguaglianze e nasconde il grosso tema di ok ora che ci siamo cosa facciamo quindi ora è il momento giusto per passare un po' alla seconda fase quello che diciamo sempre è che questa contabilità di quante donne, le quote quindi quante donne sono in politica è una condizione necessaria ma non è sufficiente per il cambiamento perché essere in politica vuole anche dire semplicemente perpetuare le disuguaglianze che ci sono state finora perché si diventa campionesse di un sistema che chiedeva questo tipo di scelte quindi per noi il libro è capitato in un momento in cui anche noi come dire abbiamo un po' affinato la riflessione rispetto a quello che stiamo vedendo in giro certo certo bisogna fare appunto un passo avanti cioè non ci si può affermare ad una visione apparentemente paritaria e che vabbè voglio dire chi si occupa di femminismi da tanto tempo si rende conto della magagna che c'è dietro però insomma ecco è un'occasione in realtà anche quello che dicevi tu prima è un'occasione anche per essere coinvolte coinvolti e coinvolte all'interno dei processi cioè capire che non siamo solo qualcuno che subisce le conseguenze ma che può essere diciamo il motore di un eventuale cambiamento sì una cosa sulla quale noi puntiamo sempre è renderci consapevole che siamo più della metà dell'elettorato esatto esatto certo è una cosa semplice ma insomma assolutamente importante da ricordare grazie mille a Giovanna Badalassi il libro di cui abbiamo parlato sentito la signora economia guida femminista al capitale delle donne esce per le plurali vedo dal vostro Latinomics che ci saranno delle presentazioni in continuo aggiornamento in giro per l'Italia quindi insomma seguitele anche a Inquiete a ottobre al festival Inquiete che ci è molto caro e quindi insomma potete trovare tutto quanto su Latinomics.it e io personalmente vi consiglio di seguire le plurali e guardare un po' anche tutto il loro catalogo perché ci sono delle cose molto molto belle interessanti il libro tra l'altro esce oggi quindi insomma una giornata importante per voi siete emozionate parla per te giustamente Giovanna come ti senti? perché poi come dire sono stati in teoria ci abbiamo messo forse nove mesi o qualcosa di più o qualcosa di meno a scrivere un libro ma in realtà ci abbiamo messo dentro un'esperienza di dieci anni quindi insomma è stato come dire per noi è un bel consolidamento di quello che abbiamo fatto fino ad oggi ecco quindi vediamo come viene accolto bene bene grazie mille Giovanna e la vostra seconda scelta è Girls Just Wanna Have Fun come mai l'avete scelta? perché Cindy Lauper è un attivista convinta questa è stata una canzone che ha segnato diverse generazioni la mia è stata la prima generazione segnata da Cindy Lauper ma ancora oggi i ragazzi vedo che la citano la sentono l'ascoltano eccetera quindi è abbastanza trasversale e ci ricorda che parità vuol dire anche pari leggerezza no? pari pari capacità di affrontare la vita con una una dimensione di leggerezza che a molti di noi è preclusa ancora oggi grazie mille Giovanna grazie davvero a presto grazie a voi buona giornata arrivederci canale grazie a tutti e Grazie a tutti